Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignan. Ricordiamo innanzitutto per tutti i mezzi l'obbligo in vigore di dotazione di catene da neve o gomme termiche per la maggior parte delle strade toscane, il cui elenco è consultabile sui nostri canali social. In Fipili, in viaggio verso Livorno, coda per incidente al chilometro 61-900 tra il bivio Fipili di Lamazione per Pisa e Lavoria e coda in entrata a Lavoria sempre in direzione a Livorno. Coda in uscita la strassigna provenendo da Firenze. Prudenza per la presenza di personale in A1 tra Aglio e Firenzuola per i mezzi in viaggio verso Bologna. Si ricorda la chiusura della strada statale 12 della Betone del Brennero a Borgo a Mozzano a chilometro 40-500 per Caduta Massi. La riapertura è prevista per Natale. In Piazza Galdi a Firenze, blocco temporaneo della circolazione per scavo urgente. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!